ciao a tutti ragazzi ho acquistato questo oggetto da amazon si tratta di una stazione saldante professionale o semi professionale e dunque arriva in questa bella scatola tutta stampigliata e le caratteristiche sono queste qui ovvero ha una potenza di 750 watt pesa circa 3,5 chili queste sono le temperature come vedete che può raggiungere e funziona ovviamente con la 220 volte di casa quindi va collegato alla spina di casa normale dunque la stazione saldante in sé per sé è questa vi dico subito che la prima impressione è veramente eccezionale perché si tratta di una stazione saldante realizzata tutta in metallo e tutta metallo e plastica non c'è niente forse queste manopole qui ecco i pulsantini ma il resto è tutto in metallo un po come si facevano i prodotti buoni negli anni 70 80 o anche 90 dunque 750 watt come dicevamo il modello 992 di più ok qui si collega il cavo per l'alimentazione e questo per l'accensione e spegnimento che può essere comunque regolato anteriormente come vedete anteriormente appunto ci sono due tasti accensione per il riscaldatore quello ad aria calda per disaldare oppure quello per il saldatore on off con i vari tasti è possibile regolare le temperature del saldatore quindi aumento salva saldatore diminuzione del della temperatura del saldatore stessa cosa per regolare la temperatura del dell'aria calda tre canali questa è la manopolina per aumentare e diminuire la velocità della ventola nella confezione tanti sono gli accessori vabbè ovviamente il saldatore in sé per sé la penna saldatrice anche cosiddetta questo è invece quello per riscaldare e dunque poi ci sono varie punte eccole qui tante punte lo stagno ecco qui 0 8 mm dopo di che ci sono dei bei supportini e un bel supportone per per il saldatore ecco qua anche questo realizzato in metallo insomma che dire e la qualità sembra elevata speriamo che mantenga le promesse vi farò sapere meglio descrizione ciao alla prossima